Ci sono degli atteggiamenti in politica che contribuiscono ad esasperare i toni e le distanze sia con le opposizioni che con i cittadini dei vari comitati, associazioni e movimenti popolari. È il caso del presidente Donato Toma, come sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. Donato Toma non ascolta nessuno. No, noi due anni fa gli dicemmo che si poteva dare la possibilità ai cittadini invece di pagare 1000 euro di multa, per esempio sulla revisione delle caldaie, di pagarne un decimo. Lui ci disse che noi non capivamo nulla, dopo due anni ha fatto quello che gli dicevamo noi. Gli stiamo dicendo dal 2020 la questione dei bond della Regione Molise, delle obbligazioni che ci costano 8 milioni di euro di interessi l'anno. Gli abbiamo detto nel 2020, ieri glielo abbiamo ribadito, ma dal 2020 non ci ascolta. Questo è il concetto, lui non ascolta nessuno e quello che sta facendo il suo tour in giro per le amministrazioni, e io l'ho definito il tour di un vacanziere della sanità, perché i problemi, quelli che sono i veri, i reali problemi del Molise, e lui li sa, li conosce molto bene, il problema è che non li vuole risolvere, perché chiaramente risolvere i problemi della sanità pubblica significherebbe efficientarla e significherebbe magari permettere a qualcun altro di evitare che qualcun altro possa, voglio dire, speculare sulla salute. Non si ferma a queste critiche, il consigliere Greco parla ancora una volta del viadotto Sente Longo e dell'ospedale Caracero di Agnone. Altri due argomenti sui quali se ci fosse stata collaborazione tra le forze politiche, perché a mio avviso poi quando c'è da fare il reale bene del territorio, la politica va messa da parte, bisogna remare tutti nella stessa direzione. Questo purtroppo non è accaduto e sul viadotto Sente, dove noi abbiamo reperito due milioni di euro per permettere l'immediata riapertura, provincia, tutti quanti hanno perso due anni di tempo sostanzialmente, con il totale disinteresse di Donato Toma, con il totale disinteresse di Vincenzo Niro, che noi abbiamo trascinato ai tavoli dei ministeri, però non ha mosso un dito, anzi, a mio avviso se è possibile sono stati colpevolmente inerti, fermi, immobili. Stessa situazione sul Caracciolo, dove noi abbiamo messo sul tavolo le soluzioni, non i problemi. Purtroppo quelle soluzioni non vengono ascoltate, però il Presidente Toma va in Consiglio Comunale a dire cose assolutamente scontate. In Alto Molise sono cinque anni che aspettiamo un'attack, nel momento in cui arriverà questa attack sarà comunque tardissimo, questo è il concetto e non puoi venire lì per l'ennesima volta a dire ora vi mandiamo la attack, perché suona come una gigantesca presa in giro. Dato importante è che in Consiglio Comunale, ad ascoltarlo, c'erano forse dieci persone, di cui otto erano parenti stretti dei consiglieri comunali. Questo denota il fatto che ormai non lo può vedere e non lo vuole vedere più nessuno in Molise.